Continua a far paura il rischio di dissesto idrogeologico a Corigliano Rossano. A seguito dell'alluvione del 12 agosto 2015, la Regione, così come anche la provincia e il Comune, a parte i lavori di sommorgenza, non sono riusciti a mettere in cantiere alcun intervento risolutivo. E dopo le preoccupazioni palesate nei giorni scorsi dai cittadini, a lanciare l'allarme sullo stato di salute di torrenti, fossi di scolo e sulla stabilità del territorio, sono i tecnici. Dopo l'evento alluvionale del 2015, non c'è stata nessuna pianificazione organica di interventi di messa in sicurezza. Nemmeno la manutenzione straordinaria della rete di scolo, che sarebbero i fossi, i torrenti, tutti i vari canali, che sono stati colmati dall'alluvione, sono rimasti così. Questo significa che il rischio idrogeologico ha subito un incremento spaventoso. E in tutto questo ci sarebbero gravinate impienze anche da parte del Comune di Corigliano Rossano. Da un lato hanno sbagliato la documentazione relativa all'ordinanza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri subito dopo l'alluvione, per cui, mentre la Locride ha avuto 18 milioni di euro per riparare i danni comuni, noi non abbiamo avuto niente, zero lire, perché abbiamo sbagliato noi la documentazione. Ci sono gli argini rotti e le brigne rotte che non vengono riparate, che preannunciano i disastri, perché sul celato e sul colagnato ci sono briglie di 8 metri sfondate, ci sono gli argini rotti in prossimità dell'abitato. Ma cosa ci deve dire di più la natura? Riparate perché se no vi vengo addosso. Marco Lefosse per la CNews24